ma si rende conto di quello che sta facendo? sta inguinando un paese sta inguinando ma che ci pare che a me piace quella macchina profuma? ma vuoi dire stai che tu vuoi fare? che con questa macchina sono io consumato, stai unisciendo pezzo, pezzo o sapete che ci dico? vado da sardisco, si fa installare un bel impianto a gas a cos'è risparmia e inguina di meno la ditta sardisco di Agrigento installa gli impianti a gas nelle vostre auto seguendo le tecniche di montaggio più all'avanguardia vi offriamo inoltre la possibilità di effettuare pagamenti agevolati dilazionandoli in comoderate sardisco in bianti gas auto e risparmio si fa strada vabbagate 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 Grazie.